Perini, ti vedevo molto interessato a questo numero così, ma perché ti ricorda l'anatia Romagna? Ti ricorda certe atmosfere... Ha qualcosa, ha qualcosa... Alla cosa di Romagna, io vorrei sapere, tu sei andato a votare a Cessore? Sono andato a votare... Dopo due settimane, diciamo la verità, di successo, perché insomma tu hai avuto uno straordinario... Sono ancora in corso le operazioni di spoglio, eh, da noi? Ah sì... È ancora in corso lo spoglio? Ma perché è un po' drogoso o perché non è riuscito... No, perché io ho dovuto fare la votazione, ma hanno fatto la delega, questa delega per 70.000 persone, ho dovuto fare la votazione, ha fatto una specie di premio... Ma che cosa strana... Ho dovuto firmare queste votazioni... Ma che usi avete da quelle parti? Voi non ho ben capito... Lì, è una democrazia perché, scusa... Questa medaglia, che cos'è questa... Questa medaglia qui è stato... questa è un'ex decorazione... Come un'ex decorazione? Un'ex decorazione perché due anni fa questa è la doppia medaglia dei 500... Dei 500... Dei 5C, perché è un simbolo, questo è un simbolo italiano... Questa è la... due 500 lire... Ecco... Ecco, ma chi te l'ha data questa medaglia? Questo due volte, perché io due volte sono andato a questo posto, Montelepre... Sì... Siamo all'ex decorazione impervia, è stato la zona impervia due volte e si è riuscito a vendere due pedalò... Sei riuscito a vendere due pedalò... Ah, questa è la medaglia che ti dava la Cesenautica? Sì, la Cesenautica è stata offerta dalla Cesenautica perché loro premiano questo sforzo bellico, in certo qual modo... Mi sono spinto oltre il muro, a rischio mio! Oltre il muro di Ancona! E quello è il bello! Il muro di Ancona, per parte! Questo muro immaginario, per ora, però, in via di costruzione... Sì, vabbè, ma questo diciamolo senza... Se andiamo su noi, capito? Ma come se andate su voi, ma innanzitutto... Eh, ma lascia stare, perché ci sono gli ultimi dati in arrivo, hai capito? Ma ormai i dati, i giochi sono fatti, come dicono in Francia, le je... Come dico, come dite voi in Francia? Come dicono... No, ma è un problema in Francia, anche lì! Come dicono in Francia? I giochi sono fatti! I giochi sono fatti, come dicono? No, in Francia come lo dicono? Le je... Le je... E io non lo so, se lo faccio dire... Je, te, me, l'ho! Tutti, un po' tutti! In Francia parlano un po' tutti! Sì, francesi sono tutti! Ci mancano solo che la parola loro! Sì, appunto! Sono facci come noi! Sì, noi abbiamo... Solo che hanno certe cose, le macchine, la diancia, hanno certe altre macchine, se non le so a infilare io! Eh, ho capito, va bene, va bene! Va bene! Va bene, Ferini! Mi raccomando, tu scaldati dove andiamo, questa è la domanda... Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Questa è la conversazione di stessere... È un bel problema, eh! Fortuna che... Lasciami il documento! Eh, vabbè, in un attimo come fai? Non lo so! Perché noi qui abbiamo di nuovo...